Wow, la salita cinematografica privata di me inizia! Cosa è questo? Nell'anno 33 della nostra era, il Messia è sparito! Dove è andato? Dividi, Poffe! Cavolo, sei fuori, Gesù, sei completamente fuori! Non dite mai che la mia esposizione! Per essere il figlio di Dios è proprio il mio figlio di... Qui sta, di Genka Casicchi, che dice? Si legge così, quello del primo film. La passione di Cristo 2, crocidizzi questo. Sai come si usa una di queste? E tu sai come si usa una di queste? A lui, lasciate che sia colui che è senza peccato a scagliare il primo calcio in culo.